L'avresti mai detto che ce ne saremmo andati così presto? Padre, ho sempre desiderato chiederti una cosa. Perché uno come te ha scelto di ignorare il codice per salvare i propri compagni? Io ho sofferto molto per questo. Non l'ho mai accettato. Capisco. Posso immaginare quanto tu ti sia sentito ferito. Ma vedi, padre, penso che tu abbia fatto del tuo meglio. Hai infranto il codice per salvare gli altri e sono orgoglioso di questo gesto. Grazie. Che succede? C'è qualcosa di molto importante che devi compiere. È stato bello riuscire a parlare con te. Grazie per avermi perdonato. Posso proseguire il mio cammino. E finalmente potrò rivedere tua madre.